Cani maltrattati e malnutriti, costretti a vivere in un canile lager, in pessime condizioni igienico-sanitarie. Era il 2011 e a Rionero in Vulture furono violente le polemiche per le condizioni della struttura, gestita dall'associazione Vola, che ospitava ben 150 animali. Quella vicenda ha avuto risvolti giudiziari e davanti al gruppo del Tribunale di Potenza è ripresa l'udienza preliminare a carico di quattro persone, Giuseppe Amodeo e Angelo Volgare, rispettivamente gestore del canile rifugio di Contrada Pesco e addetto alla custodia dei cani, devono rispondere di maltrattamento di animali in quanto detenevano, come si legge nelle carte dell'inchiesta, gli animali, oltre 150, in pessime condizioni igieniche, abbeverando gli stessi con acqua alloccata in contenitori con copiosa presenza di muffe, alimentandoli con pezzi di pane, cotenne di suini croccantini buttati per terra e non praticando le dovute cure, di fatto causandone in vari casi la morte. Antonio Sacino è invece accusato di aver consegnato scarti di macellazione agli operatori dell'associazione Vola per alimentare i cani, invece di conferirli alla ditta specializzata per lo smaltimento. Il sindaco di Rionero in Vulture, Antonio Placido, da parte sua deve rispondere di rifiuto in atti d'ufficio per non aver adottato provvedimenti atti alla salvaguardia dei cani ospitati nel rifugio comunale, permettendo al gestore di detenere i cani in una struttura sprovvista di autorizzazione sanitaria, collaudo e agibilità di rete idrica e sistema fognario, con gravi carenze igienico-sanitarie in box arrugginiti e sprovvisti di coperture. Nel 2009 fu lo stesso primo cittadino a chiedere il dissequestro del canile disposto dall'autorità giudiziaria per far eseguire i lavori di adeguamento della struttura che due anni dopo versava ancora nelle stesse condizioni. Sui quattro indagati ora pende la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Potenza.